Di do di do di do di do di do do di do do di Dipingere le modanature è un modo veloce per dare un tocco di design alla vostra casa. La cosa bella è che si tratta di una tecnica versatile con cui sbizzarrirsi. Potete dipingerle di bianco e nero per avere un effetto più formale o usare un unico colore per un risultato più casual. Oppure potete dipingere delle strisce e decorarle con delle teste d'animale. Continua a seguirci su Fine Living.